Bentornati su TGHCV Oggi siamo qua non con una notizia Perché abbiamo dato molte notizie di recenti Ma non abbiamo nulla di nuovo Non abbiamo neanche aggiornamenti a Los Santos Ma oggi abbiamo deciso di intrattenervi con una lista di divertentissimi memes Il primo mi fa venire la pelle d'oca perché è veramente divertentissimo Per quanto semplice possa essere a me ha fatto ridere un botto Quindi giocavo con Franklin o con Michael Poi dicevo di switchare e cambiare personaggio con Trevor E succedevano sempre delle cazzate non so perché Quando te fai un colpo succede o che uno muore o che uno quitta Madonna quanto ti fa incazzare Questa è una cosa che succedeva per lo più su GTA 4 Ma ogni tanto si vede anche su GTA 5 Ok so che queste immagini non c'entrano a con i memes Però cioè mi fa ridere vedere un gorilla In mezzo a non lo so un barattolo di citrioli E' buffissimo E' buffissimo